Ciao, benvenuti a una nuova puntata di .NET Podcast, il primo podcast italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Oggi siamo qui con Max. Ciao Max. Ciao Emanuele, ciao a tutti. Grazie dell'invito. Addirittura, tu sei di casa. Siamo qui con Max per raccontarvi in una delle puntate della serie Microsoft News le novità di Bills. Ma prima di iniziare, jingle! Eccoci. Allora, Max, di cosa vogliamo parlare in questa puntata? Eh niente, c'è stato Build, 25-27 maggio 2021. Build è uno dei momenti di aggregazione delle tecnologie Microsoft, degli annunci. Insomma, diciamo, nel tempo è un po' cambiato. Io mi ricordo, io sono anziano. Tu no, tu sei giovane, ma io sono anziano. E i Build di persona, quando non c'era il, così, l'agile delle notizie ogni 10 minuti, praticamente una novità al giorno, era un momento in cui Build, ma anche Ignite, insomma, gli eventi di questo tipo erano un momento di carrettate di news, carrettate di novità, di nuovi prodotti, nuove feature e quant'altro. È rimasto ancora così, le novità sono poche, in particolare c'è, vi consiglio, magari poi metteremo il link, il book of news di Build, in cui sono riassunte tutti gli annunci fatti durante queste due giornate. Noi citeremo quelli che al nostro insindacabile giudizio, visto che siamo noi a fare il podcast, ci sono sembrati, no, più che altro non insindacabile giudizio, quanto che molti non ne sappiamo praticamente nulla della tecnologia, no, esattamente quello, ci sono sembrati i più interessanti, quindi coraggimi se ho detto qualche castroneria. No, no, assolutamente no, assolutamente no, anzi, ci sono alcune notizie che forse non avremmo nemmeno saputo da dove iniziare a parlarne, quindi le esalteremo probabilmente a più e pari, o al massimo le accenneremo, diciamo. E guarda, io non mi dispiacerebbe mandare subito su un argomento che mi sta particolarmente a cuore, che ovviamente con Immagini e Azure, dove, immaginare, sul quale insomma ci sono stati un po' di annunci, soprattutto per esempio riguardo alla parte di App Service o di, diciamo, la possibilità di fare deployment di servizi su Kubernetes. Ti va di parlarcene? Sì, allora, secondo me, insieme a un altro paio di notizie, quella più interessante, secondo me è una svolta, nel senso che permetterà alcuni scenari interessanti, tanto che cos'è? È un bundle, mettiamola così, è un pacchetto tutto compreso, nel senso, credo il nome sarà Application Services, anche se il nome va a cozzare con App Service, in realtà è App Service, Functions, quindi per me è la gioia scesa in terra, Logic App, API Management, Event Grid, impacchettati, permettetemi il termine poco tecnico, ma tanto sono news, impacchettati, la possibilità di metti, di poter usufruire di questi cinque servizi servizi che notoriamente, la maggior parte di questi sono tipicamente tutti Azure, perché a parte le function che girano su runtime e Logic App che in futuro gireranno sullo stesso runtime delle function, gli altri sono tipicamente servizi Azure, possono essere utilizzati in un'ottica Kubernetes, quindi in un cluster Kubernetes e quindi deployati dovunque, banalmente, dovunque gira un cluster Kubernetes tramite magari Arc, che è un tool sempre nostro che permette di gestire multicloud, quindi questo è importante perché questo significa che se io approccio un'applicazione cloud native sfruttando questi servizi non sono lock rispetto al cloud, quindi in teoria potrei portarmelo in giro, poi se sto su Azure posso sfruttare i servizi singoli, ma posso anche sfruttare a KS, quindi secondo me questa è tanta roba come direbbero quelli bravi, ed è una svolta, perché è utilizzare dei servizi che nativamente sono Azure in ambienti multicloud, quindi niente male direi, direi molto interessante. Qui mi parte un'altra domanda, volendo potrei utilizzarli ovviamente sempre in un'ottica Kubernetes, cloud anche sulla mia macchina di sviluppo con Minikube? Beh, in realtà se la promessa è far rigirare in containerizzazione in Kubernetes tramite ovviamente dei container, non vedo altra alternativa, dovunque questo gira probabilmente lo è. In realtà non ci sono ancora dettagli specifici su questo, nel senso che l'annuncio è stato che esiste questa possibilità, io recentemente non l'ho ancora provato, nel senso che non l'ho visto, ma se l'idea è che ti do la possibilità di far girare questi cinque o parte di questi cinque, quelli che ti servono, in un mondo containerizzato, boh, se non conosco quello che tu mi citi, ma se quello gestisce la containerizzazione penso di sì. Sì, 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 assolutamente. È come se simulare un cluster Kubernetes in locale. Sì, credo, credo di sì. Un'altra notizia che non mi dispiacerebbe tirare fuori era quella relativa al supporto nativo per i web socket su API Management, che è un altro di quegli argomenti che mi piace trattare spesso, diciamo. È in preview, però mi sembra un'altra notizia da non sottovalutare, insomma, sempre nell'ottica di poter esporre il proprio back-end, appieno il proprio back-end. Eh sì, proprio per questo, no? Perché in realtà API Management dà tutto uno spettro di esposizione su tutto ciò che è HTTP, quindi REST, SOAP. Il problema è che non aveva, fino adesso, il supporto nativo per web socket, che in alcuni scenari hanno tanto senso. Quindi riuscire a sfruttare tutti i meccanismi di behavior, di policy, out of the box, a configurazione che ha i suoi API Management anche sul mondo web socket, anche questo è un bel annuncio. Non è equivalente, secondo me, come importanza all'altro, perché se vive anche senza, perché oggettivamente le applicazioni che usano web socket non sono il 99.9%, però, oh, è tanta roba pure questo. Buttalo via, come direbbero quelli bravi. Esatto, esatto. Poi devo dire che, come mancanza rispetto all'esposizione del back-end, insomma, per quelle applicazioni che ovviamente facevano uso di web socket, aggiunge quel mattoncino, ovviamente non ci sconvolge, ma aggiunge quel mattoncino. No, 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 ma esatto, ma va a completare comunque l'offerta, no? Quindi significa chiudere il cerchio in un certo senso, quindi ragionevole. Come se è stato politicamente corretto. Eh? Come se è stato politicamente corretto, mi è piaciuto. Ah, sto in base, sto facendo delle lezioni apposta. A proposito di politicamente corretto, citerei OpenJDK, perché tutta ma, voi, solo roba vostra, app service, event grid, tutta roba vostra, il resto del mondo non esiste. Non è vero, è stata annunciata la OpenJDK, quindi per i fascinorosi e i fan di Java, quindi stiamo arrivando anche lì, quindi tremate, tremate, le streghe sono tornate, come diceva qualcuno. E no, perché oggettivamente il mondo è fatto di tanta roba di quel tipo, di Java, quindi ci sta. E tra le altre cose l'annuncio anche del fatto che l'app service sul mondo del mondo Java ha la parte di Insight out of the box che non era previsto prima. Quindi la collezione di tante telemetrie che prima non erano automatiche, mettiamola così, ok? Adesso lo sono. L'ottica è proprio quella, favorire anche quelli che vengono dal mondo Java entrando noi nell'OpenJDK e dando tutta una serie di tool lato cloud, lato Azure, insomma. Anche in questo caso mi sembra una delle mosse più azzeccate, tra virgolette, negli ultimi tempi, da parte di Microsoft, che si apre sempre di più ad altre tecnologie. Com'è? Se non puoi vincerli, confondili. Se non puoi batterli, abbracciali. No, ma è innegabile che il mercato sia fatto da tanto Java. Non entrando nel merito piace, non è quello il problema. Il mercato non risente del piace, non piace personale. Il mercato risente dell'installato, no? E siccome ce n'è tanto, e siccome vogliamo che anche quello funzioni in maniera degna e nello stesso modo con cui funziona il nostro mondo sul cloud, è giusto che si vada verso quell'ottica lì, no? Assolutamente. Ma poi è il bello di Azure, insomma, no? Che è per molti servizi agnostico rispetto alla tecnologia che si intende di utilizzare. E anche per, diciamo, un'altra notizia, che non sarebbe il caso di omettere, tra virgolette, insomma, la nuova versione di Bicep o Bicep. Sai che non ho ancora capito bene la... Bicep. Io lo chiamo Bicep, però non lo so, quell'inglese. Non lo so. A me piace tanto. A me piace tanto. Piace tanto, diciamo, che io lo chiamo il Terraform di Azure. Nel senso che l'idea è quella che c'è dietro Terraform, però è il DSL specifico di Azure. E rispetto agli art template va sicuro che è tanta roba, tanto più semplice da gestire, tanto più semplice da capire. Peraltro fa cose che il template non fa. Quindi vi suggerisco di dargli un'occhiata. La Cloud Shell e la nuova versione della CLE supporta Bicep come l'art template, quindi potete tranquillamente crearvi il vostro template e deployare direttamente il template. Bicep, di fatto, la CLE non è altro che un transpiller. Prende il Bicep, lo converte in art template e lo pubblica. Per questo vi do appuntamento a Community Days, sessione su Bicep, vedremo anche il playground, che vi permette di fare un po' di esperimenti senza dover installare nulla. Però è interessante, significa che il progetto è in corso d'opera, nel senso che non era un facciamo un tentativo di, ma evidentemente lo stiamo portando avanti. Dove arriverà ovviamente non dipende né da Microsoft né da chi lo usa, ma dipende da il mercato se lo accetto o meno, vedremo. Però dategli un'occhiata, secondo me è interessante. Sicuramente è una tecnologia che non si può non tenere d'occhio di recente. Mi pare che abbiano rilasciato, più o meno in concomitanza con build, la versione 0.4. Sì, la 0.4, sì, 0.4. Da giugno, quindi da adesso, sì. Sì, c'è un po' di funzionale, è ancora 0. qualcosa, quindi, però... Anche Terraform lo è. Sì, vabbè, vabbè. Anche Terraform è uno 0. qualcosa. Sono esperto di Terraform, però diciamo che se lavorate multicloud, non gli darei un'occhiata. Nel senso, se dovessi scegliere, se lavorassi effettivamente multicloud, avessi, che ne so, in mezzo roba Azure piuttosto che AWS e Google, probabilmente avere un solo linguaggio, che poi non significa che scrivo uno script che va su Azure e poi faccio gira su AWS, perché ovviamente le risorse sono diverse, però il linguaggio con cui rappresento la mia infrastruttura è lo stesso, allora Terraform, o anzi, ci sono altri, possono essere migliori. Ma se lavorate solo su cloud e siete abituati agli hard template con tutti i mal di testa che significano, magari dategli un'occhiata da questo punto di vista, sono meno mal di testa, mettiamolo in questo modo. che è per noi, insomma, che facciamo questo lavoro, sono qualcosa che... Poi, mettila così, io ho già due neuroni, se uno me lo gioco pensando agli hard template è la fine. Non voglio sapere altro come tu lo giochi. Cioè, dovrò respirare, no? Hai ragione. Invece, tornando un attimo, seri e tornando alle news... Seri, dai. Seri, ma è stato serio, vita mia. La mette poi, guarda. Lasciamo stare. Ci sarebbe un altro aspetto interessante, sempre con una serie di aggiornamenti o updates interessanti, dati rispetto a prodotti, su Cosmos DB. Cosmos DB? Sì, Cosmos DB c'è un po' di roba. Ovviamente, due annunci, secondo me, i più interessanti. il fatto che Cosmos DB supporta al momento e in GA il role-based access control come controllo di accesso, come gestione delle credenziali e questo è importante, secondo me, perché permette di utilizzare un'autenticazione identity service invece che i segreti. Quindi è una buona cosa, in GA. E poi il fatto che tutte le API hanno la modalità serverless in generale availability. Per chi non lo sapesse, sia SQL e adesso Cosmos hanno la possibilità di avere due tipologie di deploy che sono provisioned e serverless. Provisioned significa io ho la cilindrata del mio motore, i v-core per SQL, gli RU al secondo per Cosmos, quelli sono, se nessuno usa il mio DB o quelli pago e continuo a pagarlo. È come se avessi l'acceleratore costantemente a un certo livello, il motore se sempre ha un certo numero di giri anche se la macchina è ferma. Serverless invece è un approccio per cui io ho un range di scalabilità in SQL, è data da un v-core minimo, un v-core max, in Cosmos il meccanismo è molto simile, ma l'idea è, se nessuno lo usa per un po' di tempo, il mio database va a riposo. Significa che io spendo, pago esattamente quello che utilizzo. È il concetto del serverless, anche in questo senso. Occhio, che è comodo, ma è comodo in quegli scenari in cui il carico non è costante nel tempo e la vostra applicazione dovrà essere conscia del fatto che se dopo un po' di tempo il database è a riposo, la prima connessione potrebbe ottenere un errore. Perché? Perché il database deve ripartire. Vale sia per SQL che per Cosmos, se la vostra applicazione prova a connettersi a una tabella SQL con SQL serverless, la prima richiesta otterrà un timeout. Perché? Perché il database non è pronto ancora a rispondere e deve partire. Però vi assicuro che se il vostro scenario prevede SQL due ore al giorno, usare un serverless due ore al giorno, a parte i concetti di scalabilità automatica, e qui non entreremo, usare un Cosmos due ore al giorno, è tanto meno che usarlo 24 ore e usarlo, cioè pagarlo 24 ore e usarlo solo due ore. La vostra applicazione applicherà un meccanismo di retry, un pattern circuit breaker, poi scegliete voi quanto siete fichi per farlo, e quindi la prima chiamata, quel tipo di timeout, otterrà un errore, aspetterà mezzo secondo, un secondo e riprova. Quindi la prima richiesta sarà più lenta, ma da quel punto in poi lo utilizzerete. Quando il flusso di lavoro smetterà di utilizzarlo, dopo un certo periodo, il database andrà a riposo con costo zero. Quindi tanta roba anche questo. Ci sono tante espressioni riguardo, poi permettimi l'attimo, se ripeto è spottioso, chi sviluppa per il cloud tendenzialmente almeno un retry pattern dovrebbe averlo sviluppato. Sì, il minimo, dai. E dai. Dai, quando, mai su. Ho sparata rossa, lo so. Sì, dai, su. No, il problema è che a noi c'ha, il problema, scusate, per mettere, ogni tanto sentite, mi soffio il naso, ma purtroppo ho una certa età, come ho detto all'inizio, e sono raffreddato. No, in realtà il retry pattern, il meccanismo di gestione degli errori transienti dovrebbe essere stato, dovrebbe essere sempre utilizzato. Non è detto che un premio non sia così. Il problema è che siamo abituati che il database e l'applicazione web stavano due server che erano praticamente attaccati, addirittura nella stessa macchina, quindi se stava giù uno stava pure giù l'altro. Però, il meccanismo è lo stesso, ci sono degli errori transienti che durano poco, che si risolvono da soli, ma anche banalmente il numero di connessioni è una banca dati. Non è che voi lo mettete spropositato. Se avete una connessione, se non avete più connessioni, aspettate 30 secondi, aspettate mezzo secondo, probabilmente una se ne libera. Quindi anche lì, questo è un qualcosa che avremmo sempre dovuto utilizzare, solo che un premio non c'era così la necessità di farlo e quando andiamo sul cloud è come dici tu, giusto, sarebbe una cosa buona e giusta, come direbbe qualcuno più alto di me, però va messo in piedi. Sul serverless deve essere così, non può non essere così, perché altrimenti otterrete un errore che non è un errore, è semplicemente un fatto che l'architettura funzioni in quel modo, punto. Beh, sì, 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 ci sta tutto. E poi riguardo a Decius, diciamo, Cosmos DB in realtà, c'erano anche gli altri due annunci relativi all'emulatore per Linux in preview, che fa sempre molta inclusione da parte di Microsoft e un annuncio forse un po' meno rilevante da un certo punto di vista, però la possibilità di avere una cache integrata all'interno di Cosmos DB è anche quella in preview. E oltre alla funzionalità dell'Always Encrypted, che pure, insomma, in alcuni scenari è qualcosa di desiderato, ne ho sentito parlare come se fosse qualcosa di desiderato su alcuni tavoli, diciamo. Sì, in realtà, c'erano anche altri annunci sui dati, se non mi ricordo male, mi pare di aver letto un po', perdonatemi, ma insomma, il Book of News è lì, nel senso che poi ognuno fa la cernita dei dati che interessano. Alcune proposte free per MySQL e PostgreSQL, quindi anche questo è nell'ottica di voglio verificare se voglio provare il prodotto, oh, Cosmos ce l'ha, SQL non ce l'ha, vabbè, ma SQL ha... Con meccanismo server, in realtà, è un modo per provarlo, finché lo usate mezz'ora, pagate mezz'ora. MySQL, poi magari andiamo a cercare la risposta, l'annuncio, ma avevo sentito MySQL è un Postgre free o free cost, beh, low cost, qualcosa del genere, quindi anche quello è interessante. Un basic tire vedo per Ah, eccolo, bravo, bravo. E un free tire invece per la parte di MySQL. Tanta roba pure questo, soprattutto per provare i servizi e quant'altro. Sempre in ottica dati c'era l'ultimo forse annuncio passato un po' in sordina, ma nemmeno più di tanto, considerando che qualche tempo fa c'è stato l'altro annuncio che non fa parte di news, del ritiro dei prodotti relativi a blockchain. blockchain e poi invece la possibilità di avere su database SQL un back-end, tra virgolette, blockchain che vada a, come dire, fare da anti-tamper per i dati, insomma, ci, come dire, ci fa comunque ancora sperare che dietro le quinte blockchain non sia definitivamente morto, devo essere onesto da questo punto di vista. Per me stai parlando arabo, quindi, per me blockchain è un gruppo rock, per cui... Andrò a cercarlo dopo su Spotify. Allora, tornando un attimo, dopo cercherò veramente su Spotify, al massimo metterò anche un po' di musica in sottofondo sulla registrazione. Se lo fondiamo, lo fondiamo. Lo fondiamo, possiamo fondare in un gruppo. Io canto malissimo e suono ancora peggio. Io suono al massimo il citofono, quindi voglio dire... i nuovi neri per caso. L'altra cosa interessante, forse, diciamo, questo è un altro, se non me, argomento che ti sta a cuore relativo alle durable function e PowerShell. Sì, esatto. L'annuncio del fatto che PowerShell è diventato a tutti gli effetti un altro dei linguaggi con cui sviluppare e non solo sviluppare le durable function, ma una serie di funzionalità in PowerShell per la gestione delle durable function, quindi un'estensione. Vabbè, niente, a me le function in generale piacciono, le durable function secondo me è una piattaforma, una tecnologia interessante e poi, come tutte le tecnologie, è uno strumento, va conosciuto, ci sono degli scenari in cui ha senso, degli scenari in cui non ha senso, degli scenari in cui può essere usato, ma ce ne sono anche altri e avere il PowerShell dentro significa poter utilizzare anche le durable function per degli scenari di automazione e questo è il valore aggiunto, no? Perché altrimenti sono costretto ad automatizzare Azure passando da degli SDK o creando i miei bindings e trigger. In questo modo io ho già il linguaggio che è quello dell'automazione di Azure, quindi è interessante. Non è un nostro avvolgimento nel senso che si vive anche senza, però significa due cose, significa che l'automazione diventa più semplice e che lo sviluppo delle durable function va avanti, che significa che di solito quando mi piace una tecnologia dopo un po' la chiudo, no? Significa che per adesso non ho portato sfiga, quindi chiamola così. È capitato pure alcune volte che tecnologie molto interessanti venissero abbandonate. Quasi tutte quelle che sceglievo io, quindi alla fine... Avvisami la prossima volta che scegli qualcosa. Sì, sì, esatto. Se la gente si informa su cosa sto studiando in questo momento proprio per evitare di studiare le diti. Dimmi un po' invece, Dotlet ti piace? Mi devo preoccupare? Beh, no, dai, ormai Dotlet non viene l'abbandono. Ci sto dentro da quando è uscito. Ci stiamo dentro da quando è uscito, non l'hanno ancora abbandonato. Ha resistito alle mie sfighe, quindi... Infatti, è in preview 4 la versione 6. È, è. Questa è un altro annuncio non da poco, insomma, trascando che era in roadmap quindi si sapeva, ovviamente, la roadmap di Dotnet 6 è, come dicevi all'inizio, non è una novità, non è che ci hanno detto ah, dai, esce Dotnet 6. lo sapevamo, sappiamo qual è la strada, però quelle, come dire, quegli aggiornamenti che sono stati annunciati sono comunque abbastanza interessanti. Beh, MAUI su tutti. Eh, immaginavo, immaginavo. Poi, io, sì, poi, vabbè, io in questo momento non mi occupo specificamente di sviluppo, quindi, onestamente, ci sono persone molto più esperte di me che, anzi, magari inviteremo a parlare di MAUI, però MAUI è un'altra tecnologia interessante e quindi è un modo per unificare insomma le n piattaforme con cui sviluppare dal punto di vista UI e quindi è secondo me quanto mai utile in un mondo in cui il numero di piattaforme con interfaccia prolifera come i conigli praticamente e in cui non possiamo permetterci di avere per una questione di tanto market, per una questione di gestione di avere n tecnologie differenti quindi MAUI è una sembrerebbe un'ottima risposta io non ribadisco non sono un esperto di questo però l'annuncio e la possibilità di provarlo con la Preview 4 di Dotensei è già un buon punto di inizio tra le altre cose tanti enhancement anche dal punto di vista di produttività sugli ambienti di sviluppo per esempio la versione nuova di la 16.10 di Visual Studio 2019 con un po' di enhancement e la roadmap di 2022 Visual Studio 2022 cosa più importante di questa roadmap Visual Studio 2022 supporta finalmente X64 quindi forse l'annuncione grosso è quello per il resto è una roadmap quindi come al solito la roadmap dice entro una certa data avrete la prima versione di l'estate più o meno e così via non ci sono ancora dettagli specifici però almeno il fatto di essere la prima versione Visual Studio che supporta X64 è decisamente interessante ok quindi questo assolutamente sì anche in questo caso c'è un'ulteriore apertura verso il multipiattaforma o comunque verso l'open source e non solo la parte di Microsoft verso comunque altre tecnologie o altre architetture vediamo tra le varie notizie anche il supporto ai processori M1 di Apple notizia non sconvolgente sì ma non può essere non può non essere così no cioè effettivamente non può non essere così perché il mondo è vario quindi tu non puoi permettere e non sarebbe neanche corretto sia dal punto di vista marketing sia dal punto di vista di approccio il doversi cioè mettersi nel fortino tirare sul ponte elevatoio e dire io sono io e voi non siete come diceva il Marchese del Grillo e quindi è sensato che ci sia un'apertura da questo punto di vista ma non è da adesso però come dicevamo prima non è che arrivi a build arriva l'annuncione è un percorso che ormai Microsoft fa da diversi anni non è da adesso che c'è sta apertura quindi non è che uno dice te sei svegliato la mattina e hai aperto è secondo me il completamento la prosecuzione più che il completamento di un percorso che parte da lontano e che secondo me è vincente secondo Massimo poi Massimo conta niente però i dati di fatto lo dimostrano assolutamente ora dico qualcosa che forse è meno politicamente corretto ma prima esistevano tanti come dire detrattori di Microsoft tanti tanta gente che diceva qualsiasi cosa riguardo a Microsoft tendenzialmente invece la nuova politica di apertura di inclusione rispetto ad altre tecnologie assolutamente sta piacendo anche fuori da quello che è il nostro mondo noi poi ne parliamo un po' come se fossimo dei fan dei fanboy quindi lavoriamo su tecnologie Microsoft da anni quindi ci può stare che magari ne parliamo bene invece vedo che fuori esternamente le cose stanno cambiando anche da chi guarda io ti do la mia impressione da trainer io mi occupo di training e da due anni da 2019 da metà 2019 quindi siamo a due anni praticamente faccio training a diversi clienti e diversi clienti significa che trovi il cliente che usa Java trovi il cliente che usa Python trovi il cliente che usa Node.js e magari viene da Eclipse piuttosto che da altre piuttosto anche da altri cloud e quantomeno è diventata un'opzione praticabile ed è diventata non un oddio sono costretta a utilizzare queste tecnologie che mi hanno fatto ma un da questo punto di vista siete meglio di altri da altri punti di vista no perché ovviamente ognuno ha i suoi lati positivi e i lati negativi e devo dire che da due anni a questa parte il feedback che ricevo tanto per intenderci dai feedback proprio dei corsi o delle tecnologie che noi facciamo durante la fine del corso e non è più un sono costretto a usare le vostre tecnologie ma tutto sommato mi trovo bene mi piace utilizzare le vostre tecnologie magari per un certo scenario in cui siete meglio e magari per altri scenari no ma è giusto che sia così quindi è proprio non è solo un approccio di facciata ma è proprio un approccio di utilizzo che è cambiato quindi diciamo che la cosa mi fa piacere perché Ccampo mi pagano lo stipendio quindi se non falliamo sono contento meglio per tutti e a proposito poi di applicazioni sviluppo giusto per citare insomma è sempre un argomento ben noto in precedenza insomma l'avanzamento nella roadmap da parte di Blazor e anche su questo magari inviteremo qualche ospite per illustrarci anche nel dettaglio tutto quello che è il percorso che sta facendo Blazor in questo momento e magari darci anche qualche elucidazione in più qualche dettaglio in più su tutti gli aggiornamenti che ci sono stati che non sono pochi forse magari piccoli ma non sono pochi quindi assolutamente no ci vuole qualcuno che ci capisce ma tu che ci stai a fare e io faccio colui che insegna quindi chi sa fa chi non sa insegna per cui faccio quello io di mestiere io sei sempre troppo cattivo nei tuoi confronti ma mi va bene se vuoi due o tre frustrate le do poi io beh lo faccio da solo grazie e volendoci spostare invece un attimo dal mondo dev tra virgolette nel senso un'altra feature interessante forse è il toolkit per Visual Studio per Microsoft Teams all'interno di Visual Studio e Visual Studio Code beh allora Teams è un altro è un altro dei punti che è sotto 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 i riflettori perché perché dalla pandemia per tutte le aziende che hanno dei prodotti di videoconferenza la semplifico videoconferenza che significa un qualsiasi prodotto che va dal parliamo io e te come stiamo facendo adesso a gestiamo una classe facciamo un meeting quindi in questo genere mettiamoci in mezzo tutti la pandemia ha forzato le aziende a dover correre per rendere fruibili in diversi scenari che non sono banalmente il meeting sono un po' più complessi lo strumento e questo ha portato a tante cose tra cui la possibilità di scrivere applicazioni che girano in Teams il toolkit per Teams aiuta a questo e non solo durante Build in particolare se andate a vedere la sessione relativa alla keynote relativa allo sviluppo c'è tutta un'integrazione tra il mondo no code low code chiamiamola come deve fare quindi le power up e visual studio per lo sviluppo le power up come platform mettiamola così e Teams come hosting quindi la possibilità di fare avere applicazioni scritte in power platform all'interno di Teams quindi una macedonia di roba quindi questa roba è molto interessante io anche qui non sono un esperto da questo punto di vista però è il diciamo che il low code no code chiamiamolo come di pare è uno dei post delle tipologie di piattaforma di sviluppo perché sempre in sviluppo si parla su cui si punta tanto Teams gioco forza la pandemia gioco forza il fatto che anche quando finirà molte cose non cambieranno da questo punto di vista perché comunque si è visto che in alcuni scenari la virtuale è comunque premiante immaginate quando io faccio dei corsi con gente da tutta Italia anziché far riconvergere in un posto probabilmente più funzionale farlo fare da casa o dall'ufficio tramite uno strumento virtuale che però fornisca delle funzionalità e magari applicazioni per fare dei sondaggi per fare dei giochi perché no per fare dello studio insieme e quindi lo strumento di sviluppo senza codice no code low code rapido mettiamolo in questo modo che dovrebbe rapido perdonatevi non significa ci metto poco la qualità è poca anche lì è uno strumento quindi lo strumento genera un risultato in base a come lo usate se avete un martello e ci provate a piantare un chiodo funziona se ci avete un martello e ci piantate una vite non funziona quindi non è lo strumento che fa il software ma vi aiuta in alcuni scenari quello strumento integrato con un ambiente come Teams apre degli scenari che prima non erano non erano previsti insomma assolutamente e poi forse abbiamo qualche altra notizia un po' meno interessante però a me sta in qualche modo a cuore che è il query packs in log analytics c'è la possibilità di condividere un set di query all'interno dell'organizzazione insomma per log analytics che è qualcosa che comunque è un'altra necessità abbastanza sentita in giro e non è una di quelle notizie che mi fa strappare i capelli in realtà sarebbe difficile farlo no già hai fatto a occhio e croce l'hai già fatto sì sì immagino per qualche altra notizia esatto ormai ho dato però è quel qualcosa come dicevamo prima che non non mi dispiace che ci sia qualche altra informazione che ci vogliamo dare riguardo a Build a parte il fatto che c'è il book of news disponibile su news.microsoft.com vabbè basta cercare su sul noto motore di ricerca cercate book of news build qualsiasi motore ricerca voi vogliate book of news build 2021 allora ovviamente le sessioni sono tante gli annunci sono tanti dirli tutti in un quarto d'ora ormai saranno anche diventati 20 minuti che parliamo non è non è fattibile andate lì li trovate li trovate divisi per tipologia quindi troverete Microsoft 365 piuttosto che la parte di sviluppo piuttosto che la power platform ne abbiamo parlato e anche gli annunci su windows non troverete tanti annunci su windows un po' perché semplicemente perché nelle prossime settimane ci sarà l'evento specifico di windows quindi vi suggerisco di seguirlo anche in quel caso però trovate tutto e poi per ogni notizia avrete il link in dettaglio quindi se andate a prendere la notizia sugli application services che abbiamo citato c'è il link all'annuncio effettivo nel blog nel blog di windows anzi di scusate di azure in cui avete tutte le notizie più dettagliate però il book of news secondo me è quello che io uso non potendo seguire perché purtroppo pretendono che io lavori durante la giornata non potendo seguire le sessioni di building diretta e dormendo la notte volendo dormire la notte do un'occhiata al book of news e vado a vedere quelle che mi interessano ovviamente non ha senso andarsene a vedere tutte fai bene pure io diverse sessioni me le sono perse perché avrei dovuto seguirle di notte invece o non lavorare di giorno ma era complicato questi clienti che continuano a chiederci di lavorare non li capisco non capisco il perché pretendono che uno lavori pagate e basta non vedo perché si non vedo questa necessità ok se dovessi rimanere senza lavoro chiederò e dopo questa affermazione verrò a battere a passare a casa tua vieni c'è sempre posto per gente come bene va bene c'è sempre da pulire per terra insomma va bene io direi che abbiamo direi che abbiamo detto un po' tutto insomma o almeno quello che ritenevamo essere le notizie che ci hanno un po' più segnati o sconvolti all'interno di questo video e tezzo ci risentiamo alla prossima puntata ciao a tutti grazie dell'invito è sempre un piacere ciao a tutti grazie a te Max ciao ciao a tutti Grazie a tutti.